salve cari amici cari amiche benvenuti nel mio nuovo interattivo questo è il mio canale e io sono zaira allora oggi interattivo richiesto super richiesto cosa prova per me attrazione o amore abbiamo tre varianti abbiamo la prima variante il cuore giallo abbinato ai tarocchi classici abbiamo la seconda variante cuore verde abbinato ai tarot mucia poi terza variante cuore rosso abbinato ai rider white allora fate la vostra scelta io nel frattempo voglio ringraziare tutti quanti voi che mi seguite che interagite con me nella community sono molto molto felice di ciò mi piace questo appunto comunicare tra di noi perché comunque io cerco così di postare regalare questi video e proprio mi fa piacere che voi li gradite quindi grazie ai vecchi iscritti che mi seguono dal primo momento grazie ai nuovi iscritti e grazie a tutte coloro tutti coloro che apriranno questo video per la prima volta e insomma comunque se vi piace il video vi fa piacere seguirmi se vi iscrivete al mio canale e attivate la campanella e mettete un like è questo il vostro sostegno al canale per farlo crescere per farlo sostenere quindi detto questo voglio anche parlarvi degli interattivi perché è giusto che voi sappiate che gli interattivi sono delle stesure così a scopo di intrattenimento voi non dovete prendere decisioni con gli esiti degli interattivi in generale con gli esiti dei tarocchi perché tarocchi non è una scienza esatta sono delle energie quindi voi dovete prenderle nel modo giusto sfruttare le energie messaggi suggerimenti i consigli che queste preziose carte possono darvi ovviamente sempre parliamo di energia quindi anche gli interattivi sono energie generalizzati non possono assolutamente risuonare su tutti quanti voi per cui se vedete qualcosa che non vi risuona non appartiene a voi appartiene un'altra energia se invece trovate qualcosa che vi risuona ascoltate il messaggio ascoltate il segnale il suggerimento e così come un consiglio ecco perché se siete qui in questo momento un motivo c'è nulla è al caso quindi vuol dire che questo interattivo qualcosa vi deve suggerire però non dovete prenderlo alla lettera sempre prenderlo con le dovute cautele detto questo voglio anche ricordarvi che gli interattivi sono sempre validi in qualsiasi momento voi li vediate per cui a volte alcuni iscritti mi richiedono degli interattivi che io ho fatto una settimana fa non so dieci giorni fa poco tempo fa allora poiché gli interattivi sono appunto validi dal momento in cui li vedete per la prima volta magari potete fare una sbirciata andare a sbirciare nel mio canale ho postato più di 150 video ma forse anche di più quindi potete trovare ma poi magari quel interattivo che voi volete così richiedermi perché se già l'ho postato recentemente non è il caso di rifarlo poi sapete che io comunque ogni mese mese e mezzo così ripeto sempre quelli più richiesti quindi insomma prima o poi poi capirà il vostro detto questo qualsiasi suggerimento è ben accetto nella community comunque voi fatemi le vostre proposte che io le tengo sempre da conto le metto in lista e quindi poi appena possibile di appunto vi accontento allora la premessa è stata abbastanza lunga io parto subito con la prima variante quindi la domanda è la seguente cosa prova per me attrazione o amore quindi parliamo spudoratamente di storie d'amore ok non parenti nuovi amici persone a cui noi abbiamo sentiamo un sentimento comunque abbiamo un interesse per cui vogliamo appunto sapere se questa persona prova per noi attrazione o amore può essere una persona con cui che state frequentando una persona un collega di lavoro qualcuno che vi piace qualcuno che avete conosciuto che ne so sulle chat un ex un fidanzato una persona che state frequentando e volete sapere appunto se lui sente un sentimento o se c'ha soltanto un attrazione fisica insomma la domanda è basta pensate a una data persona e andiamo a vedere se questa persona prova per voi attrazione o se a per voi prova per voi amore variante numero uno il cuore giallo prenderemo alcune carte dei tarocchi antichi classici e poi ho preso qui per voi tre oracoli king dell'amore gli angeli rispondono e gli angeli del cuore che ci daranno un esito finale alla o confermeranno quello che i tarocchi ci diranno a questa domanda quindi per coloro che hanno scelto la prima variante il cuore giallo cosa prova per me attrazione o amore vediamo intanto questi li metteremo qua anzi li metto qua così vedete anche comunque la variante abbiamo una regina di coppe quindi comunque come carta di fondo mazzo vedete la regina di coppe già abbiamo una situazione comunque una una donna che si ama quindi comunque voi siete amata c'è un'energia di amore nei vostri riguardi quindi voi rappresentate un po la sincerità la sposa fedele l'amore ma come prima carta esce il 5 di spade che non promette nulla di buono asso di bastoni abbiamo un re di denari abbiamo un 3 di coppe abbiamo un la carta del sole vedete la carta adesso non le vedete tutte aspettate 5 di spade asso di bastoni re di denari 3 di denari e la carta del sole ok poi abbiamo la carta della morte abbiamo il 10 di coppe e il carro allora come vi dicevo come energia di fondo mazzo abbiamo la regina di coppe quindi è sicuro che voi in qualche modo siete amata o comunque siete una donna che meritate amore perché siete una donna dolce devota fedele insomma l'amante è la regina dell'amore la regina di coppe lui è un re di denari quindi parliamo di una persona diciamo molto concentrata sul lavoro potrebbe essere un commerciante un datore di lavoro potrebbe essere un collega una persona che comunque vota la sua vita al lavoro all'attività professionale ad accumulare soldi una persona che potrebbe essere segno di terra capricorno vergine toro portarne l'ascendente questa persona ha un'energia comunque di una persona amante dei piaceri ma molto materialista quindi è una persona che è più portata per la materia che per diciamo i sentimenti no segni di terra sono sempre personaggi molto diciamo anche freddi a livello emotivo e allora qui questa situazione questa persona che di cui avete voi chiesto ha comunque con voi dei degli conflitti molto forti tant'è che non mi stupirei che in questo momento c'è un non contact vi ha bloccato oppure proprio non c'è un un dialogo cioè vi si è allontanato va bene in questo momento non comunicate e io devo dire comunque che in questa stesa la risposta è assolutamente positiva perché questa persona non solo prova attrazione perché abbiamo il lasso di bastoni che ci parla proprio di attrazione proprio fisica no di passione l'asso è l'inizio i bastoni sono le passioni fuoco quindi proprio è l'avvenimento l'inizio cioè questa persona ha iniziato con voi con un'attrazione molto forte però questa persona ribadisco potrebbe essere un datore di lavoro potrebbe essere una persona con cui avete a che fare a livello lavorativo è comunque una persona molto importante che vi può anche favorire molto nell'ambito appunto lavorativo quindi dicevo con questa persona che avete pensato si è stabilito subito un'armonia oltre che è iniziato con con il sesso però si è stabilita con questa persona un'armonia un come dire o anche un'amicizia un modo armonico e sincero di relazionarsi e lui ha avuto appunto un'illuminazione e quindi con la carta della morte ha un po' abbandonato l'idea dell'attrazione per poi trasformare questo rapporto in un rapporto di amore quindi questa persona quindi ovviamente questa è anche un'unione sessuale però è anche un'unione di amore quindi con la carta del carro che appunto ci porta all'esito felice quindi se questa persona in questo momento si è allontanata vi dicevo c'è non contact non vi sentite molto spesso lui finirà chiuderà questo passato un po' burascoso che avete avuto e sicuramente verrà verso di voi con voglia di ricominciare e anche di concretizzare in qualche modo questo sviluppo di amore quindi ripeto è iniziato come un'attrazione si è evoluto in un amore abbiamo questa carta in particolare del sole di questi tarocchi che ci parlano proprio di una coppia che si ama e quindi ha intenzione di venire verso di voi concretizzare con i dieci di coppe che è appunto la realizzazione il riconoscimento dell'amore vedete il carro il dieci di coppe adesso vediamo gli oracoli di chi ha scelto la variante numero uno il cuore giallo cosa ci dicono se ci confermano o se ci danno un esito diverso allora qui abbiamo la carta dei king la grande forza domatrice numero 26 del king che dice buone possibilità di recuperare un legame allentato benissimo vedete la sincronologia delle carte il sincronismo scusate delle carte assolutamente conferma questa ripresa di questo legame quindi ci sono buone possibilità di recuperare questo legame che si è rallentato e tutto ciò succederà molto presto veramente sincroniche le carte molto molto parlano fra di loro e quindi ci sarà un miglioramento qua dice di salute ma è chiaro che il miglioramento è simbolico in senso generale e quindi ci sarà un miglioramento di questa situazione perché oltretutto con i cinque di spade c'è anche una situazione dolorosa di rimorso di ansia di chiusura comunque negativa per i sentimenti quindi questa stesa è veramente fortunatissima complimenti per chi la scelta il cuore giallo quindi questa persona si è approcciata a voi in maniera inizialmente sessuale di attrazione ma si è poi riconosciuta innamorata di voi anche se c'è un allontanamento al momento mi dà anche un possibile non contact però presto si rifarà vivo e presto o viva e presto vi come dire riconoscerà l'amore se vi è piaciuta la variante mettetemi un like se non siete ancora iscritti al mio canale fatelo il canale ha bisogno del vostro sostegno per poter crescere e sostenersi appunto benvenuti a chi ha scelto la seconda variante il cuore verde mettiamo qua con le tre carte degli oracoli come vi dicevo nella prima variante le angeli del cuore gli oracoli rispondono e i king dell'amore li mettiamo qui e dopo alla fine vedremo il risponso finale gli oracoli che cosa ci dicono riguardo a questa domanda quindi come vi dicevo benvenuti la domanda è cosa prova per me attrazione o amore quindi pensate a una persona che avete nel cuore, nella testa insomma che desiderate, che frequentate o vi siete lasciati non ha importanza l'importante è sapere cosa prova per voi adesso attrazione o amore allora intanto vi ricordo che gli interattivi vanno presi con leggerezza sono delle energie generali non possono risuonare in tutti quanti voi è chiaro se invece volete approfondire una situazione che vi sta a cuore negli infobox ci sono i miei contatti sarò felice di aiutarvi poi volevo anche dirvi che gli interattivi sono sempre validi in qualsiasi momento li vediate conta il momento in cui lo aprite l'interattivo e lo vedete per la prima volta per cui andiamo alla domanda quindi cosa prova per me? attrazione o amore? andiamo a vedere per coloro che hanno scelto la seconda variante il cuore verde abbiamo come carta di fondo mazzo il ritorno, le notizie, i chiarimenti abbiamo la carta del giudizio quindi una carta molto positiva un bellissimo asso di coppe apre la stesa un 4 di denari un 2 di denari abbiamo un 6 di denari qua molti denari in questa stesa quindi un 8 di denari abbiamo un 9 di denari eh ragazzi tutti i denari un altro asso di spade e abbiamo il 6 di coppe quindi qua la situazione è la seguente allora come carta di fondo mazzo abbiamo la carta del giudizio vedete la carta numero 20 del giudizio che ci parla appunto di ritorni di notizie di una lettera messaggio insomma un rinnovamento una rappacificazione un chiarimento quindi se questa in questa stesa con questa persona siete allontanati vi siete lasciati c'è stato un momento di stand by insomma avete avuto un litigio non c'è diciamo una frequentazione in questo istante in questo momento presto questa persona ritornerà ritornerà da voi perché perché questa persona eh gli mancate vedete c'è il 6 di coppe qua la stesa inizia con un asso di coppe e finisce con un 6 di coppe quindi questa questa persona che avete pensato intanto eh vuole con voi un nuovo inizio quindi ritornerà da voi perché qua abbiamo l'energia del la carta del ritorno del giudizio ritornerà da voi e vi proporrà un nuovo inizio perché lui vuole stabilità eh vuole guadagni vuole con voi comunque sconfingere il male quello che insomma c'è stato questa incertezza vedete lui probabilmente in questa stesa potrebbe anche essere eh che questa persona sia stata indecisa tra una scelta tra due opzioni altrettanto valide quindi come se eh in qualche modo eh ha avuto dei dubbi riguardo a questa vostra relazione però adesso questi dubbi lui se li è elevati cioè lui ritiene che eh che voi siete la eh come dire eh la persona giusta perché avete anche con lui un'intesa che non è soltanto eh quella dei sentimenti ma comunque è un'intesa è una come dire anche probabilmente anche in questa stesa ci potrebbe essere che siete colleghi di lavoro o che fate un lavoro entrambi lo stesso lavoro insomma che c'è un qualcosa sul del lavoro che vi unisce o vi siete conosciuti nel lavoro fatto sta che eh questa persona ragazze anche in questa stesa oltre che il l'amore nascente che ha per voi ha anche un'attrazione sessuale quindi sia attrazione che amore perché vedete qua escono due assi l'asso di spade che ci parla di forza di volontà vigore sessuale cioè l'asso di spade è molto legato a le azioni l'attrazione mentre invece l'asso di coppe sapete che appunto inizio di un nuovo amore quindi è un amore nascente cioè questa persona probabilmente vi siete allontanati perché se c'è ritorno in qualche modo c'è stato un allontanamento si è un po' così fatta un po' diciamo non gli affari suoi però lui si è un po' allontanato è stato distratto da altre cose e probabilmente si sarà allontanato forse per viaggio per lavoro insomma questo poi siete tanti sapete voi ci ha avuto questa forte indecisione nei vostri riguardi però lui ha capito perché ha sentito la nostalgia vedete quando viene questa carta ricordi del passato indecisione insomma riguardo appunto quello che si vive adesso quindi lui ha avuto una sorta di indecisione però poi vi siete mancata e ha capito che per voi sente sia attrazione che amore ed ha intenzione di ritornare se anche pure voi invece siete una coppia che vi frequentate no? che magari avevate qualche dubbio su questa persona per comportamenti un po' diciamo ambigui no? potrebbe anche essere che l'energia del ritorno è semplicemente che questa persona anche pur rimanendo con voi ha avuto delle incertezze sul vostro rapporto magari indeciso fra una situazione del suo passato e voi o viceversa insomma comunque ha avuto questa indecisione può darsi che non vi siete neanche poi lasciati ok però lui si era allontanato emotivamente a livello di energia perché noi possiamo stare insieme a una persona però anche se dormiamo nello stesso letto essere lontani anni luce quindi questo suo rientro nell'energia potrebbe essere anche cioè questo suo rientro scusate potrebbe anche essere nell'energia cioè se era allontanato emotivamente si ravvicinerà per la stessa ragione allora andiamo a vedere per coloro che hanno scelto la variante numero 2 cosa dicono i king dell'amore viene la carta numero 1 il creativo quindi si ritroverà una bellissima intesa sentimenti chiari profondi e costruttivi vedete l'esagramma numero 1 dei king il creativo la creazione assolutamente bella e assolutamente attinente a questo asso di coppe che ci parla appunto di un inizio di un avvenimento che si sta per creare ovviamente positivo gli angeli del cuore ci dicono però di stare ancora un po' in guardia perché ci saranno dei segnali che appunto ci mettono in guardia quindi di fare attenzione comunque a cosa vi sta intorno cioè fare attenzione ai segnali che vi possono venire intorno questo probabilmente è relativo a questo due di denari come se questa persona ha ancora forse qualche dubbio o non l'ha completamente espletato tutto comunque voi fate attenzione a ciò che vi succede intorno a voi e infatti la carta degli angeli del rispondono dicono informati meglio ecco come dire che anche se le carte le energie sono tutte positive su questa stesa però fate attenzione vedete prima di prendere una decisione una decisione come dire concreta definitiva fate molta attenzione a ciò che vi accade intorno a voi perché ci saranno dei segnali che vi mettono in guardia e quindi come se voi dovete sapere qualcosa in più su questa relazione io però comunque in ogni caso alla domanda io ritengo che questa stesa pure è positiva perché comunque alla domanda se prova attrazione e amore prova entrambe le cose quindi per me per quanto riguarda questa domanda specifica è positiva se vi è piaciuta mettetemi un like se vi siete riscontrati nella variante e non siete ancora iscritti iscrivetevi al canale il canale ha bisogno di voi per crescere allora variante numero 3 il cuore rosso benvenuti a tutti coloro che hanno scelto questa variante il cuore rosso che metteremo qua insieme ai tre oracoli gli angeli del cuore king dell'amore e gli angeli rispondono che poi andremo a vedere alla fine della stesa allora mentre io immischio i miei ride white e ovviamente voglio intanto ricordarvi che gli interattivi sono energie generalizzate quindi prendete tutto con cautela con le pinze perché non possono risuonare su tutti e non dovete fissarvi sui responsi dovete solo cogliere ciò che l'universo vuole mandarvi con un segnale un suggerimento un consiglio anche una sola diciamo frase che può aiutarvi nella vostra situazione la domanda qui è cosa cosa prova per me attrazione o amore come dicevo quindi gli interattivi con calma se poi volete approfondire una situazione che vi sta a cuore negli infobox ci sono i miei contatti sarò felice di aiutarvi poi volevo anche dirvi che gli interattivi sono sempre validi in qualsiasi momento li aprite e li vedete conta la prima volta che li vedete anche se sono datati non ha importanza quindi concentratevi sulla persona mi raccomando allora coloro che hanno scelto la variante numero 3 il cuore rosso questa persona che hanno nel loro cuore cosa prova per me attrazione o amore dovete ripetere mentalmente questa parola quindi per coloro che hanno scelto la variante numero 3 il cuore rosso questa persona che hanno nella loro testa cosa prova per loro attrazione o amore andiamo a vedere cosa ci dicono i tarocchi a riguardo di questa domanda abbiamo la carta del papa come energia di fondo mazzo quindi diciamo che una protezione un senso di serenità di amore un'ispirazione in questa situazione c'è c'è un senso di assenso quindi comunque una carta positiva però qua guardate guardate come prima carta abbiamo una persona che scappa incominciamo bene un 7 di spade però andiamo a vedere meglio tutta la stesa abbiamo la temperanza abbiamo la carta della forza abbiamo il fante di denari e abbiamo il 5 di spade vedete ok poi abbiamo la carta del 10 di bastoni la regina di spade e la carta del mondo qui abbiamo ragazze nonostante ci sia questo papa che comunque mi sembra una persona ispirata mi sembra un'energia di amore di serenità di 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 lealtà anche no anche un consiglio una persona comunque che in qualche modo ho un'energia ho una protezione dall'alto però qui le carte sono un po' diciamo un po' dubbie un po' dubbie perché perché qua ci parlano intanto di una persona che con noi si è comportata in maniera superficiale abbiamo un fante di denari che comunque è un fante di una persona che non ci si può fidare quindi è chiaro che qui c'è stato un tradimento vedete abbiamo proprio il sette di spade abbiamo la carta del tradimento dell'ingannatore di colui che comunque fa qualcosa di male verso di voi e scappa via quindi qua c'è stato un tradimento causa immaturità c'è stato un tradimento questo si è comportato male come un fante di denari quindi una persona di cui non ci si può fidare una persona immatura che deve ancora migliorare vedete voi invece siete una regina di spade quindi siete una donna molto forte una donna capace una donna anche che non vuole più soffrire una donna che vuole assolutamente non più commettere errori una donna sola che lotta con ardore che ha un grande senso del dovere della moralità e quindi ha un animo puro è un'impavida e invece questa persona che cos'è è un fante un fante per giunta che ancora ha bisogno di migliorarsi ha bisogno di crescere a livello sentimentale parliamo perché poi potrebbe essere anche una persona che poi alla fine in altri settori potrebbe anche essere una persona che chissà chi è impostato però a livello sentimentale questa persona è così vedete mentre voi siete così quindi una differenza incredibile cioè voi proprio lo sovrastate in maniera grandissima quindi questa situazione questo questo inganno questa insomma presa in giro che vi ha fatto questa persona vi ha creato molto sofferenza voi voi che chiedete avete sofferto molto questa è una carta molto brutta per il consultante o la consultante perché ci parla di infelicità di conflitti un'ansia un senso di distruzione cioè quest'uomo vi ha fatto o questa donna vi ha fatto soffrire tantissimo a causa di quello che ha combinato con voi va bene però tutto sommato questa persona in ogni caso nonostante si sia comportato in questo modo lui intanto ha un'attrazione perché questa carta del 10 di bastoni io la vedo come un'esuberanza un un eccesso nel nella passione perché i bastoni sono passioni quindi io la vedo come una carta benefica per l'attrazione per il come dire contare no contare come posso dire nel appunto nel volere un qualcosa di carnale e anche di cambiamenti felici per cui questa persona è indubbio che un'attrazione per voi ce l'ha avuta e non solo perché comunque sia i due arcani maggiori sia la carta della temperanza che la carta della forza comunque sono due arcani benefici anche per quando riguarda i sentimenti perché comunque qua parliamo di un amore armonico parliamo di riflessione serenità insomma questa persona con voi stava bene questa persona voi la facevate sentire bene e avete guarito un po' tutte le pecche voi avete cercato sempre di giustificare questi suoi comportamenti perché siete veramente una donna molto forte l'avete perdonato voi l'avete perdonato però adesso non perdonate più adesso voi volete la risoluzione volete la felicità la realizzazione per cui è chiaro che comunque questa persona in qualche modo anche dicevo a livello di sentimenti di ardore di passione ce l'ha per voi perché questa è una carta che ci parla anche di legami solidi appunto fine di un'incertezza e di un ardore quindi io a questa domanda se questa persona per voi prova attrazione o amore io direi che lui prova attrazione per voi e l'ha provata ha un senso del legame cioè non mi viene una carta di coppe una carta proprio esplicita dell'amore però lui ha un senso di legame verso di voi cioè lui con voi sta bene vuole questo legame perché ha questo ardore è affascinato da voi siete una donna concreta una donna forte una donna che combattete e comunque lui vorrebbe in qualche modo con voi una riuscita una realizzazione una ricompensa ok andiamo a vedere se gli oracoli ci danno qualche altra insomma perché questa è una stesa un po' ambivalente cioè si parla si di legame si parla si di una sorta di attrazione ma non è proprio non c'è un imprint proprio fortissimo allora per coloro che hanno scelto la terza variante vediamo i king dell'amore ci parlano dell'esagramma numero 29 l'abisso vedete e qua ci confermano falsità e tradimenti cioè questa persona con voi è stata falsa e vi ha tradito quindi conferma la carta del 7 di spade e il 5 di spade andiamo a vedere gli angeli del cuore ci parlano però vedete di vero amore quindi qua questa stesa è molto particolare perché nonostante questa persona vi ha fatto tanto soffrire ma tanto perché come ripetevo prima la carta del 5 di spade è una carta di sofferenza soprattutto per la consultante o il consultante quindi vi ha creato tanta tanta ansia avete avuto un senso di perdita di abbandono vi siete sentiti distrutti da questa infelicità per tutti i conflitti per quello che vi ha fatto questa persona perché questa persona vi ha tradito ingannato ed è scappato via senza neanche darvi una spiegazione quindi il tradimento c'è stato ce lo conferma la carta dei king dell'amore però gli angeli del cuore ci dicono pure vero amore questo è l'amore della tua vita vediamo gli angeli rispondono e ci dicono che ci sarà una risoluzione pacifica quindi ecco adesso queste tre carte ci hanno dato una conferma appunto questa sesa che era un po' sul ni diciamo così perché comunque non mi usciva spudoratamente una carta di sentimento di amore diciamo che questa persona ha più un amore per voi ha una forza di legame molto forte ovviamente anche di attrazione per carità però ha proprio il vero amore cioè questa è l'unica stesa dove ci dice veramente che questa persona nonostante sia una persona discutibile infantile vi ha ingannato vi ha tradito è stata a farsa con voi però vuole risannare il tutto perché ecco la carta della temperanza assume anche qui in questo contesto non solo il legame e la guarigione verso noi ma anche lui guarisce vuole trovare la forza vedete la forza l'ardore di ristabilire questo legame e sicuramente ci riuscirà perché comunque la carta in finale del mondo ci parla proprio di sogni realizzati comunque di ricompensa è di forte protezione ecco perché giustificato anche il fondo mazzo che la protezione è proprio divina cioè voi avete una protezione che vi protegge appunto dall'alto perché anche se questa persona si è comportata così con voi però è il vostro vero amore vedete quindi complimenti perché ha scelto complimenti insomma voglio dire sì vabbè mi ama però mi tradisce ma in ogni caso qua si parla anche comunque di una persona che cercherà di farsi perdonare comunque un esito positivo della stesa questo è vero amore qui è vero amore quindi cosa prova per voi attrazione amore prova anche attrazione ma la carta principale che spinge questa persona il sentimento che ha per voi è amore vero amore quindi se vi siete riscontrati su questa variante vi è piaciuto il video mettetemi un like iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto il canale ha bisogno di voi tutti per poter crescere dobbiamo superare un'altra soglia io non vi dico quale per scaramanzia ma voi lo sapete e quindi il canale giovane sapete sono solo quattro mesi che mi accingo a fare questi interattivi però grazie a voi tutti il canale va bene è in crescita ve ne sono grata e vi ringrazio di vero cuore allora vi mando un bacione un abbraccio forte virtuale il bacione anche virtuale e vi do appuntamento al prossimo interattivo ciao dalla vostra Zahira